ciao a tutti oggi prepareremo le praline alle nocciole tipo baci perugina il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa gli ingredienti sono nocciole tostate nutella cacao amaro e cioccolato fondente diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo da parte dal quantitativo delle nocciole 50 grammi di nocciole le rimanenti nocciole le versiamo all'interno del boccale e le facciamo tritare per cinque secondi a velocità 6 adesso aggiungiamo il cacao amaro e la nutella e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 2 il composto è pronto trasferiamolo in una ciotola adesso andiamo a formare le le praline prendiamo una parte del composto formiamo una pallina andiamo a posizionare sulla carta da forno e poi posizioneremo al centro una nocciola e proseguiamo così per il resto del composto una volta composte tutte le nostre praline mettiamo in freezer per un'ora trascorso un'ora sciogliamo il cioccolato lo versiamo all'interno del boccale e azioniamo il bimbi per cinque minuti 50 gradi velocità 2 il cioccolato è pronto trasferiamolo in una ciotola abbiamo ripreso le nostre praline cioccolato fuso adesso prendiamo una pralina la posizioniamo sopra la forchetta e facciamo cadere il cioccolato sopra la pralina facciamo scivolare giù un po' del cioccolato e lo andiamo a posizionare su un altro passoio sempre rivestito da carta da forno sino a quando non si sarà asciugato prendiamo un'altra pralina la immergiamo un poco la posizioniamo la posizioniamo sulla forchetta e col cucchiaio andiamo a glassare la parte di sopra sbattiamo un po' la forchetta per far cadere il cioccolato in eccesso dopo aver glassato le nostre praline col cioccolato fondente mettiamoli in frigo a riposare per un'ora praline di nocciole tipo baci perugina grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti